Buongiorno a tutti, sono Fabio, sono il titolare della Fanny Center Academy, una scuola di ballo, una struttura a Udine abbastanza grossa, noi abbiamo circa 1100 metri quadri che hanno 3-4 sale dove facciamo parecchie attività. Ho conosciuto Sergio Toglianis in primis perché volevo iniziare questa nuova avventura. Abbiamo da lì iniziato una conoscenza reciproca attraverso i business day, attraverso Zoom call, telefonate, un'assistenza costante che mi ha portato veramente a trasformare la mia azienda, ad aumentare il numero di iscritti, ad avere un profitto per iscritto superiore ma soprattutto avere un grado di soddisfazione del cliente, un grado di ritenzione, quindi i clienti che ritornano molto più elevato. Una delle cose che mi ha colpito di più è proprio che c'è un sistema da poter utilizzare, che c'è del marketing da poter fare, che c'è tutta una serie di aspetti che io assolutamente trascuravo pensando che magari bastasse semplicemente essere un buon insegnante piuttosto che avere una bella struttura. E adesso stiamo veramente facendo un lavoro straordinario che mi ha portato a raddoppiare il fatturato, quindi non posso far altro che ringraziare tutto lo staff di Corsi Pieni, che è un mondo ma fatto di persone che veramente ti possono aiutare in maniera semplice e in maniera, come posso dire, genuina. Quindi grazie a tutti.